Place to be Siena, top 10, ecco i 10 migliori eventi della settimana a Siena e provincia. Sigla! Venerdì 25 gennaio, Bottega Roots a Colle di Valdelza presenta Cazzo Live. I Cazzo sono un gruppo musicale alternative rock italiano formatosi a Roma nel 2006 da un'idea del cantante Matteo Gabbianelli. Il nome della band, Cazzo, deriva da un vezzo di Gabbianelli che sin dai tempi del liceo era solito mascherare le parolacce inglesizzandole. Dalle ore 21 vi aspetta una bella serata di buona musica e ottimi drinks in pieno stile roots. Venerdì 25 gennaio, The Rock a Siena presenta Cazzo Live. È un progetto musicale che si ripropone di rispolverare dal cassetto degli anni 80 successi internazionali e nazionali. Una serata per stuzzicare ricordi e ballare senza tempo. Inizio ore 21. Sabato 26 gennaio, dalla mattina, torna a Siena l'evento Wine Siena, una manifestazione organizzata dalle menti creatrici del Merano Wine Festival, in collaborazione con la Com Commercio di Siena, Camera di Commercio Siena-Arezzo e Comune di Siena, per celebrare a Siena, città simbolo della viticoltura italiana, le eccellenze enogastronomiche premiate The Wine Hunter Award. Un evento in cui la città diventa protagonista, immergendo produttori e visitatori in un'atmosfera unica al mondo, dove la storia della terra si rispecchia nei luoghi. Rocca Salimbeni, sede della Banca del Monte dei Paschi, Palazzo Comunale, Grand Hotel Continental Siena, Star Hotels Collezione, il Palazzo del Rettorato, Palazzo Squarcialupi e Palazzo San Sedoni, Fondazione del Monte dei Paschi di Siena. Sabato 26 gennaio 2019, arriva al Calavera Shop Streetwear Records a Siena, fedele al vinile, di Alessandro Casalini, scrittore. Dalle ore 15 in poi, Hop Soul, R&B, Britpop e Much More, e presentazione del libro dello scrittore romagnolo, con la possibilità di acquistare e farsi firmare la propria copia. Sabato 26 gennaio, Bio & Chocolate a Siena, presenta il suo primo evento musicale, Jazz Style BSE. Vi aspetta una serata all'insegna della musica jazz, con la chitarra di Giulio Stracciati e la voce di Susanna Ossola, accompagnata dalle delizie sane di Bio & Chocolate. Inizio ore 22 e 30. Sabato 26 gennaio, il Teatro Alfieri a Castelnuovo Berardenga, presenta Falstaff o L'Educazione del Principe, uno spettacolo teatrale molto musicale, pieno di ritmo e coralità. Un grande gioco scenico, completamente dedicato al pubblico, al piacere degli spettatori di incontrare il personaggio Falstaff e la sua banda di abitanti notturni dell'Osteria della Jarrettiera, dove il nostro eroe, di fatto, vive e compie le sue imprese. Inizio ore 21 e 15. Mercoledì 30 gennaio, Cacio e Pere a Siena presenta Cacio e Jets, con Francesco Giustini, organ trio. Il repertorio scaturisce per lo più dalla vena compositiva di Francesco Giustini alla continua ricerca di un equilibrio tra la tradizione e la sperimentazione. Inizio ore 22. Giovedì 31 gennaio, la Corte dei Miracoli a Siena presenta Rock and Roll Kamikazes Live. Sarà un live show che definire travolgente è a dir poco limitativo. Una liberatoria esplosione di buone vibrazioni, alle quali è letteralmente impossibile sfuggire. Bombe soniche dal cielo, pura denotazione rock and roll. Inizio ore 22. Venerdì 1 febbraio, un tubo a Siena presenta Silvia Bolognesi e Deadly Family Live, repertorio denso di groove, divertente, che permette comunque l'inserimento di momenti improvvisati e l'apertura verso attraggiamenti inaspettati. Inizio ore 22. Venerdì 1 febbraio, presso il Teatro Politeama a Pogibonzi, si terrà la performance di Max Collini da Flaga alle Ande e Ritorno. Il frontman degli Flaga, Disco Pax, presenterà il suo spettacolo di memoria e letture, un monologo a base di racconti e testi di canzoni, già rappresentato con successo in tutta Italia. Inizio ore 21.15. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se vuoi essere al top, condividi e metti mi piace. Posta poste video taggando Place to be Siena quando partecipi a un evento, per avere maggiore visibilità. Se ti interessa un approfondimento, contatta la nostra redazione. Ci vediamo la prossima settimana. Stesso giorno, tanti posti diversi. Ciao da Matilde e da Place to be Siena. Prixi shell, Prixi shell. Inizio ore 21. Ali, al, eh, beh. Streetwear, ciao. Oh, la, 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 la. Eh sì. Presso il 3A. Non so perché l'ho fatto. Oh, la, 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 la